Però prendiamo allora il caso di Silvio Berlusconi, ha caratterizzato molto la sua figura, il contrasto con Silvio Berlusconi. E adesso sta tornando, diciamo anzi, eternamente importante nella nostra politica, probabilmente avrà un ruolo molto importante anche nei prossimi giorni. Allora, lei lo considera un delinquente o uno statista? È stato condannato con sentenza irrevocabile per evasione fiscale. Negli altri paesi a cui, diciamo, di voler somigliare sarebbe uscito dalla vita pubblica? Sarebbe uscito ma non uscito perché il paese non chiede di uscirgli, anzi, molto spesso è sembrato che lui avesse più consenso di quello che aveva lei. E lei io? Ma io non ho bisogno del consenso, non faccio politica.